Caro lettore o lettrice, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo giallo che racconta la storia di un giovane ufficiale appena tornato a Parigi dopo tre anni di prigionia e un compito urgente da svolgere, trovare una persona. Il testo offre uno sguardo dettagliato sulla vita quotidiana durante l'occupazione tedesca, mostrando come l'atmosfera di guerra possa influenzare le persone e la società. Inoltre, la trama vincente e la struttura incastro dei dettagli rendono la lettura coinvolgente per gli amanti dei gialli e dei noir. La trama del libro, Se ore è da perdere, in edizione limitata, dello scrittore Robert Brasilac, pubblicato dalla casa editrice Sette colori, è la seguente. Nella Francia, occupata dai tedeschi, un giovane ufficiale, Roberto B., rientra a Parigi dopo più di tre anni di prigionia. Nell'attesa di un treno, che dalla Gare de Lyon lo riporti finalmente a casa, ha un pugno di ore da spendere nella capitale e un impegno ad assolvere, trovare Mary Anne, la ragazza che il suo compagno dell'Oflag, in cui erano rinchiusi, Bruno Bertier, ha conosciuto durante una breve licenza dal fronte e di cui è rimasto innamorato. A inizio, così, una ricerca attraverso una città che non ha più nulla della Parigi da Robert conosciuta prima della guerra, strade vuote di automobili, mercato nero, code, vetrine e spoglie, un'atmosfera di paura, rabbia, disordine morale, troppi volti sconosciuti, nessun volto che riesca a risplendere nel ricordo. Via via che le ore scorrono, la ricerca assume i contorni di una vera e propria inchiesta, perché anche la polizia è intanto sulle tracce de Mary Anne, resasi irreperibile. Il corpo del suo ex marito è stato infatti ritrovato alla frontiera franco-belga, in un canyon contenente merci di contrabbando. E perché? C'erano ancora rapporti fra loro? Che ne è stato del figlio che avevano messo al mondo? In sei ore da perdere, Robert Brasilac costruisce un perfetto noire alla Simenon, dove una struttura in castro illumina di volta in volta gli indizi in vista della loro finale collocazione, ma traccia altresì un crudelequante e illuminante ritratto di una capitale in tempo di guerra, dove il senso del tragico sociale fa strarme di ogni illusione sul passato e sull'innocenza dei suoi protagonisti. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.